ehi ragazzi qui con voi c'è frostinox come molti sanno la tv gran parte delle volte mostra programmi in diretta gran parte delle volte sembrano andar bene ma certe volte ci possono stare dei piccoli errori a volte non sono nulla di che ma cosa succede se vengono ripresi momenti catastrofici se non a dir poco spaventosi lì cambiano un sacco di cose ecco a voi cinque momenti spaventosi accaduti in diretta tv beh che dire guardate tutto il video fino alla fine lasciate like e enjoy numero 1 molte volte quando si registra il telegiornale si sta anche in zone pubbliche all'aperto molte volte negli sfondi possono insorgere cose strane ma in questo video vediamo questa giornalista rischiare un pericolo veramente grosso era a presentare sopra a dei binari di un treno e a quanto pare non se n'era accorta del treno che arrivava ma per fortuna le persone che erano presenti lì con lei la avvertirono del pericolo che essa stava per correre come possiamo ben vedere in questo video la donna si salvò per un soffio scampando così un pericolo orribile numero 2 la figura del papa nel mondo è importante per moltissime persone lo vediamo molte volte in tv se non addirittura in diretta come possiamo vedere in questo video dove possiamo vedere il papa affacciato al balcone fin qui non è niente di che ma la cosa inquietante è che poi quando si gira scompare nel nulla in un buio nero rendendo il tutto molto inquietante e alcune persone si spaventarono anche che cosa sia successo quella volta ancora oggi nessuno lo sa numero 3 a volte nei cartoni animati troviamo certi errori a causa dei colori utilizzati ad esempio un personaggio in una scena prima indossa una maglietta azzurra in quella di dopo misteriosamente diventa rossa e poi subito dopo azzurra di nuovo questi sono errori accettabili nel mondo dei cartoni ma cosa succede se certe cose accadono in diretta tv con persone reali lì sorgono un sacco di misteri come possiamo notare in questo video dove vediamo rishi sank tener in mano un raccoglitore rosso fin qui va bene ma come oltrepassa la macchina quel raccoglitore diventa verde cambiando misteriosamente colore una piccola cosa vero ma che di mistero ne ne tiene tanto numero 4 questo video non ha nessun mistero con sé però ciò che accadette non è chiaro che succeda come possiamo vedere c'era il telegiornale in diretta tv solo che apparve all'improvviso un ragno sulla fotocamera che registrava così da portare scompiglio in tv numero 5 in questo video si stava registrando in diretta sulla spiaggia e poi all'improvviso apparì questo uomo travestito da morte dietro alla giornalista chiedendo poi di poter parlare molti che stavano guardando la diretta si erano spaventati ma veniamo al dunque chi era questo uomo questo accaduto fu in una spiaggia in florida successo quest'estate stessa dove moltissimi facevano protesta per riaprire le spiagge dato che erano state chiuse per il covid ci furono molte persone a volerle riaprire ma altre erano contro la riapertura tra i quali un avvocato che era per l'appunto contro il riaprirle e quindi pensò di travestirsi come la morte e presentarsi davanti a tutti per come dire che qui si rischia grosso bene il video finisce qui lasciate like soprattutto iscrivetevi condividete scrivete un parere nei commenti e alla prossima ciao iscrivetevi al canale